Lo chiamiamo i nostri ballerini, ti abbiamo portato un legato, ragazzi riuscite! Com'è? Vai Ale! Chiamiamo Ale il corpo di ballerino. Allora, all'inizio è un po' tipo zombie, no Luca? Sì, come zombie. Vai Ale, fammi vedere se... Fino a qua lo fanno. Poi vieni in avanti, poi di lato, di qua, di qua, di là, poi questo. Lo devi fare... su, giù, su, giù, su, giù, e poi... Ci sei! Ecco lì, vieni! Ma no, ma me lo devi far vedere. Vieni, dai, tutti insieme. Dai, proviamo. Tu in mezzo. Tu in mezzo? No, tu in mezzo. Ma no, perché? Vabbè, ragazzi, allora la prima posizione... Così. Roberto, musica. Madonna! Va bene, l'ho fatto. L'ho sbagliata pure io. L'ho fatto! No, è mica finita. E mai pensa che è finita. Poi farei una dedica a Madonna. Chi? Una Isla Bonita. E... La Isla Bonita, basta sentire un calore da dentro, qui. Guarda, eh. Roby, vai con la musica. Qua improvvisiamo. Cioè... Queste sono mosse sue. Questa è lei, guarda lei. Bravo. E qui ci voleva poco, dai. Queste però, aspetta, io conosco bene Mara, queste sono mosse sue. Forse io. La Isla Bonita gli piace. Fa caldo. Mamma mia. Senti. I bambini, me contro te, il After Rock. Ange, una puntata con Masini. Nicola, prepara il letto stasera. Mara, Mara. Vai, vai, adesso basta, adesso voi. Ok, vediamo allora, Ale. Voi, voi, voi. Regalaci un Biret di Michael. Biret, adesso me lo ricordo, noi abbiamo fatto l'amore. Questo è il primo puntato, lo ricordi? Vai, vai, ci provo, ci provo. Dai. Mi sono aperta tutti i bandi, Luca. Brava, Ale. Alla fine mi sono persa tutti i bandi. Grazie ai ballerini meravigliosi, bravissimi. Loro sono i ragazzi di Pumerissima. Sì, sono tutti i ragazzi tuoi di Pumerissima. Sì.